Let's say China 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 Da già ho zai acicritto valute Cintì un uomo inshuo Sorry Forse così un po' esagerato Bentornati a tutti su acicritto valute Cina A parte di scherzi oggi una puntata leggera Giusto per darvi un po' il mio parere E qualche info che sono riuscito a recuperare da mia moglie Sul fattore la Cina aprirà l'ecritto La Cina non aprirà l'ecritto E così via Tanto il bitcoin al momento sta cercando i supporti Come abbiamo visto l'ultima puntata Quindi ci aggiorniamo poi o sabato o domenica Ritorno piccolino nel mio angolo Oggi sono anche più scuro del previsto come luci Sono calimero Vabbè Battuta orrenda Scherzi a parte Cina cosa è successo? La Cina ci ha accompagnato dalla nascita del bitcoin Avanti Era uno stato molto attivo In quanto i cinesi hanno abbastanza una vena gambler Gli piace la tecnologia Tutto ciò che è nuovo E quindi si buttarono a capofitto nel mercato delle criptovalute Tutto bene Tutti felici e contenti Vi farò anche vedere uno storico di CoinMarketCap Tutto bene Quel che finisce bene Non proprio Cosa succede? Ci accompagna la Cina ancora sostanzialmente Cioè il mercato cinese Aperto ai cinesi Per tutta la salita Dall'inizio 2020-2021 Poi a un certo punto Il governo cinese Inizia a mandare Prima dei warning Sul fatto che Probabilmente a breve Le criptovalute Non saranno più le benvenute In Cina Successivamente arriva Quello che è realmente Il China ban Chi è nelle cripto? Noi abbiamo vissuto Dal 2016 Metà 16 in poi Però io prima non c'ero Ma mi hanno detto Che anche prima Ogni tanto arrivava Quello iniziato tra la fine Del 15 e del 16 Che ogni tanto succedeva ciò Ah I sell bitcoin at the top But we need to move market down Say China ban bitcoin No It's too old We used it 15 times already But it still work Ok 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 That's right That's right Yeah Hurrah Internet Yeah See This is a bit cheaper bank of China We ban bitcoin now Oh What? Oh What? Oh dear god China's banning bitcoin Sell Sell No Oh Proprio come questa meme Usata mille volte Ma ha funzionato Pensate che ha continuato a funzionare Anche cos'è Questo bear market Una volta due Se l'hanno provato a ridirla Ma Eva anche funzionato Che era calata leggermente Sul giornaliero Su due giorni Quindi immaginate Non mi stupirei Che se uscisse adesso Andiamo giù dell'uno Due per cento Fa ridere Ma è così Quindi si è andato avanti Per anni e anni Col finto China ban Qua è arrivato veramente Cosa significa? Che il governo cinese Nel maggio del 21 Viene comunicato Che all'interno della Cina Sono vietate Qualsiasi transazione In criptovalute Chi sa che non mi incazza? Eh Ed è anche vietato Per ragioni ambientali Il mining Di bitcoin Apriti cielo Dramma Il bitcoin viene giù Sostanzialmente Dal prezzo attuale Zero Zero Consolida Poi abbiamo terminato Il bull market E poi siamo entrati In bear market Probabilmente Il bull market È anche terminato In questa modalità Senza raggiungere Prezzi più elevati Perché comunque Abbiamo tolto Un miliardo E passa di persone All'interno Del mercato E tra l'altro La seconda economia Al mondo È quella più In espansione Anche se adesso In crisi economica Comunque Rimane una delle economie Più forti al mondo All'epoca Non aveva neanche il problema Della crisi attuale Iniziava Ma arrivava Da anni di vacche grasse Quindi ufficialmente Dall'estate del 2021 La Cina Non partecipa più Alle criptovalute E qua Immaginatevi Due tronconi Ma poi vi spiego Perché del ban Però voglio finire Questo discorso Troncone Dove entano Veramente i soldi Retail O anche parte finanziaria È chiuso È proprio chiuso Per un annetto Voi dai conti cinesi Ve lo dico Per la mia esperienza Potevate comprare E vendere criptovalute E senza nessun problema Semplicemente Erano transazioni Come per frigoriferi Borse Cibo O altro C'era una piattaforma Che funzionava molto bene Poi ce ne erano altre Ma una era la principale Che non era Binance Ma era Binance Nel senso Che era uguale a Binance E se trasferivate I soldi da Binance Arrivavano subito Però non era Binance C'era uguale E funzionava molto bene Quindi diciamo Che i cinesi Per almeno fino a metà Fine del 22 Sono riusciti a Se volevano comprare Vendere criptovalute Tramutandole in Yen Quindi sui conto correnti Quindi da valuta A cripto Da criptovaluta Senza nessun problema In tempi rapidissimi Pochi minuti Commissioni Intorno all'1% Quindi era chiuso Ma in realtà era aperto Poi invece è arrivata la mannaia Dal 2023 Questo non è più possibile Lato mining Dopo i primi 10 minuti Proprio i 10 minuti Che hanno spento le macchine Per far vedere che l'hanno spente La Cina è stabile Al secondo posto Come produttore Di bitcoin Nel mondo Abbiamo infatti Proprio in questo momento La Cina Che ha il 21,11% Di potenza Di hash rate E l'America C'è il 37,84% E poi abbiamo Il Kazakistan Che ha assorbito Parecchi miners russi Onde evitare problemi Con le sanzioni occidentali Che adesso è al 13% Sostanzialmente Quindi lato miners Non è successo nulla Non è successo nulla Perché? Perché Uno, il governo centrale Non ha Così voglia Intenzione Di andare a stressare i miners In quanto creano Un ecosistema virtuoso Nelle località Dove fanno mining Ci sono molte centrali Deolettriche Di piccole dimensioni O zone Dove c'è un esubero Di energia elettrica Quanto la Cina Ha tra virgolette Veramente esagerato Con le energie green E con il fotovoltaico La corrente costa pochissimo E ne hanno veramente tanta I miners Creano un po' di occupazione Pagano un po' di politici Locali Quindi sostanzialmente Diciamo che va bene così Questo mio parere Io credo che anche A livello geopolitico Soprattutto quando Si sono accorti i cinesi Di come gli americani Hanno iniziato a mettere Le mani sul bitcoin O poi la ciliegina BlackRock Recentemente Preferiscono tenere Una bella fetta Di produzione A casa loro Perché in futuro Potrebbero Secondo me Credo che si arriverà là Riapriranno almeno parzialmente O comunque Hanno in mano Una bella fetta Di produzione Dell'asset preferito Diciamo così Adesso dagli americani Quindi questa situazione Ovviamente va a ripercuotersi Anche sulla pressione D'acquisto del bitcoin Perché da parte Della Cina Non abbiamo pressione D'acquisto Ma abbiamo pressione Di vendita Sostanzialmente Con i miners Sull'elcoin Ancora di più La Cina Per quale motivo Chiuse le transazioni? Per un motivo Molto semplice In realtà sono due Uno Immaginatevi la Cina Oggi come gli anni 80 70 da noi Forse anche 60 In alcune situazioni Però economicamente Più tipo gli anni 80 Voi potete spostare Senza nessun problema Dei conto correnti O versare Sui conti correnti O simili conto correnti Come il nostro Paypal Ad esempio 30-35 mila dollari Al giorno E nessuno Vi dice assolutamente Niente Niente Poi sono loro Alla dittatura Nice Però C'è un però Voi non potete portare Fuori dal paese Più di 50 mila dollari Questo viene fatto Perché? Perché molti Portavano fuori Valuta Per trasformarla In valuta Più forte E non detenerla In Cina Movimentazione Che ci sta benissimo Questo governo Non vuole che accada Perché gli va bene Che lo yen Rimanga svalutato Per esportare Un po' come era la lira Una volta Però la valuta forte Se la vuole tenere All'interno Con le crettovalute Non era in grado Di controllare Questa fuga di capitali E l'altra Grossa ragione È che In Cina Come tutte le dittature Non solo Con le dittature Sappiamo Forse un po' di più E presenta Una forte corruzione E come vi ho detto All'inizio di questo video I cinesi Molto velocemente Si sono adeguate Alle nuove tecnologie La corruzione Viaggiava in crettovalute Infatti Mi fa ridere Quando qua Beccano qualcuno In corruzione Perché le mazzette Con i contanti Oppure hanno Versato su dei conti Ma giratevi In crettovalute Su dei conti privati Vabbè Non insegniamo Alle persone A non fare le cose Non giuste In Cina Si sono arrivati Molto velocemente Già le corruzioni Giravano Nel 2016 17 18 19 20 Attraverso Le crettovalute Stanzialmente Si brassavano Bitcoin Stablecoin Ai corrotti Che poi Li mandavano All'estero E da lì Se li scaricavano Che fosse la Russia Che fosse Dubai O dove cavolo Preferivano Il governo Quindi non potendo Controllare Questi due fenomeni Cosa ha fatto? Ha dato una mazzata E ha tirato La mannaia Quindi vietate Le transazioni Di crettovalute All'interno Della Cina Questo è il motivo Del ban Purtroppo Questo motivo Però Capite bene È un problema Nell'attivare Nuovamente Gli scambi Di crettovalute Nel paese Perché devono Trovare il modo Di controllarli Ci sono E i modi Per carità Potrebbero far sì Che le transazioni Possano avvenire So all'interno Di determinati exchange Se viene collegato Un wallet Esterno È obbligatorio Che questo wallet Abbia un KSE Altrimenti Non può operare Con gli exchange E quindi gli exchange Non possono né ricevere Né inviare Si può Non è facilissimo Ma si può Credo che se riapriranno Apriranno in questa soluzione Al momento hanno riaperto Timidamente Con prodotto finanziario Perché lì È controllabile Senza nessun problema Però solo a Hong Kong Si sperava In tutta la Cina Invece solo Hong Kong Che è l'ETF Di Bitcoin Simile a quello di BlackRock Su Hong Kong Sta andando benino Niente di particolare Ovviamente Se lo aprivano nella Cina I numeri erano diversi Secondo me Andremo a step E quali sarà L'introduzione di un ETF Spot Bitcoin All'interno della Cina Quindi un prodotto finanziario Che controllano senza problemi Ed è all'interno di tutto Il territorio statale A quel punto Credo che Sarà solo questione di tempo Che riapriranno Almeno parzialmente Con determinati blocchi Per riuscire a tenere sotto controllo Tutto ciò che vi ho spiegato Riapriranno l'eclitto Se questo verrà domani mattina O no Sinceramente non lo so Però a naso Vi direi no Secondo me Se avevano veramente fretta Avrebbero già aperto L'ETF spot Almeno in tutta la Cina Non solo Hong Kong Poi la Cina E poi adesso Hanno comunque altri problemi C'è il problema di natura economica Non credo che La loro priorità Sia a riaprire il mercato Delle criptovalute In conclusione Così pur parler Se però all'improvviso Arrivasse la Cina Nelle criptovalute Che cosa succede? Moon Non sto scherzando Se uscisse la notizia Facciamo finta Domani La Cina riapre le transazioni Sulle criptovalute Ve lo dico Ma immediatamente Siamo 80 Probabilmente puntiamo i 100 E mi hai detto che i 100 Non li pensavi più E cambiato idea Sì se la Cina apre Cambio idea Ma a tutta parte Probabilmente ci sarebbe Un pan poderoso E poderoso Intendo veramente poderoso E vada da 6 Che uno si butta dentro Il mercato Poi non sono consigli finanziari Io farei così E ricordatevi Che i tempi Quando i vecchi Erano nel mercato Questa è un'immagine Del mercato La seconda settimana Sì Seconda settimana di gennaio 2018 Quindi a fine del bull market Eravamo già in piena season Per quanto bitcoin Era già sceso Dai 20 ai 13 Vedete Con un meno 15 Sulla settimana Ma i tiri un pompava Ripple Che era seconda La settimana prima Seconda Per quello Sentite che la comunità Di Ripple Continua a rompere i coglioni Sostanzialmente Ancora oggi Perché comunque Per un certo periodo È stata veramente Una coin forte Aveva fatto Meno 42 Cioè vedete i movimenti Bull market Finito il bull market Meno 42 Non era proprio ancora finito Perché altre alte Pompavano Tra cui Tyrion Ad esempio Io ho preso Questo recap Perché Nio Mi ricordo All'epoca Volava Nio E IOS E erano lì Tyrion killer Fate conto che IOS ha pompato Per tutti i primi mesi Di bear market Performava divinamente Vi dico questo perché Ricordatevi che Casomai la Cina aprisse I vecchi cadavri Come può essere una Nio Una IOS O qualsiasi Altcoin Collegata alla Cina A pioggia Dentro il wallet Mio modestissimo parere Vanno messe Vi faccio vedere anche Questo snapshot Anche per farvi sempre ragionare Che le alte Vanno e vengono Guardate qua Ad esempio Ripple era 1,8 dollari Guardate dove è adesso Il trash Lasciamo perdere La stessa cartano Guardate Quanto vale adesso Rispetto all'epoca E qua il bitcoin Era 14.000 Stella Nio Iota IOS Dash Monero Tron Eccetera Giusto per ricordarvi sempre Che è il re E lui E così via Se non svacco completamente Sul finale Ma quando inizio a rivedere Queste cose Sono quei vecchietti Mi ricordano Dei periodi Concetti De cazzate dette Eccetera Eccetera Solo che Come me da tanto Nelle criptovalute Può capirlo Chi di voi Che magari è più in entrato Fa 4, 5, 6 anni All'epoca sì Tra l'altro si spera Col bitcoin che salirà E il bitcoin sopra i 100.000 Sarà la norma Come all'epoca Era normale Bicon sotto i 1000 dollari O comunque sotto i 10.000 Nella parte successiva E questo è tutto Ovviamente non potevo dirvi Ma perché non lo so Vi prenderei per il culo A fine ottobre La Cina Entra nell'ecritto A fine novembre Entra nell'ecritto La prossima settimana Di moon october Entra nell'ecritto E così via No Vi ho espresso Quello che so Da lì poi tirate Le vostre conclusioni E sempre l'orecchio aperto Ovviamente tutti noi Perché È una notizia Che se arriverà Anche se non me l'aspetto Nelle breve Poi spero di essere smentito Sarai la persona A più felice del mondo Comunque se arriverà Il giorno che arriverà Sicuramente al mercato Darà un pump Di quelli seri Dal bitcoin Alle alte E poi bisogna ricordarsi Di ruotare un po' di scitteria Mettendo della scitteria cinese Bene Con questo concluso Ci vediamo alla prossima Un saluto da Alberto Grazie a tutti